Benvenuti in questo nuovo video a Roblox e torniamo su Blox R2 come sempre Non abbiamo farmato ulteriormente perché secondo me siamo già riusciti ad andare molto veloce e molto avanti E quindi ripartiamo da dove siamo arrivati dato che devo andare, se vi ricordate bene, al Colosseo Mia cara Fede direi attiviamo subito un bel codice e partiamo Allora secondo me possiamo fare 15B-BestBrothers Spero funzioni, ha funzionato, perfetto Ha funzionato E guarda quanto dura tra l'altro, dura un'ora Grazie ragazzi per il consiglio dei codici perché sono davvero utilissimi Allora io invece sono ancora nell'isola del cielo come ci siamo lasciati la volta scorsa E continuo a farmare qui e devo fare i 500.000 per il nuovo tipo di combattimento Però ci fossero i boss ragazzi, ve lo dico onestamente, da fare al volo prima di ripartire sarebbe stata un'ottima idea E invece non ci sono Allora ci attiviamo il nostro bel potere, dobbiamo andare di lì Sium, let's go Forza, forza, forza Guarda come si vuole l'aver in pro Allora erano questi che dovevo fare, sì Guarda che bella vita, altro che le navi come i perdenti come te Che vuoi? Sono una lucina che va Guarda che faccio un sacco di cose anch'io adesso Sì vabbè però non vuole così Allora tra l'altro tu oggi forse arrivi ai soldi per il combattimento ravvicinato con l'elettrico È quello che stavo dicendo prima Perché se è 324.000 costava 500? Sì, mi pare proprio di sì, 500 Ce la potresti fare Eh sarebbe bello perché vorrei cambiare, come ho già detto la katana tripla non mi piace Infatti mi avete confermato che non è tra le migliori insomma Quindi Fere Eh che c'è? Guarda il Colosseo Bello Bellissimo Sono belle le zone però, porca miseria Buongiorno signore, vorrei prendere la missione Guerriero, livello 250 Sono anche già al 257 Quindi abbiamo un buon vantaggio Eeeh Amichevole No ma qua puoi fare il dololà Cosa? Incredibile Gli scontri puoi fare Ah bellissimo cavolo, bellissimo Allora chiediamo questo Allora andiamo Sì ragazzi Bello tutto Ma dov'è la gente da picchiare? Non lo so Forse ti devi Non lo so Configgi 7 guerrieri Toga Perché io pensavo non è che ti devi scontrare con gli altri giocatori Ma essendo che siamo da solida serve No no ma parla di Toga Warriors Ok Eh allora magari devono comparire Aspetta un po' Esatto esatto Non sono questi Porca miseria Non sono loro Magari sono da quest'altro lato Forse Sono loro Toga Warriors Ok Uno Due Trovati quindi Sì 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 Perfetto Perfetto Tre Vai raga guardate la velocità con cui Facciamo fuori la gente E siamo già a livello 260 Perfetto Quindi torniamo qui Ah non è che magari non devo essere in versione Buddha Vediamo Bro Che livello è la missione dopo? Fammi capire Il gladiatore Ok Il livello 275 Guarda non importa Tranquillo Sto bene Sto bene con i miei per adesso Sto bene con i miei per adesso Mettiamola così Mi preoccupa giusto che l'isola dei gladiatori Tutto bello Ma non hai boss Come questa Come l'isola del cielo Che è un po' un peccato Perché i boss ti fanno fare Sia un sacco di soldi Ma anche un sacco di esperienza Sì E quindi un po' Infatti la tua prossima zona Sarà la tua preferita Eh immagino Per me lo è stato perlomeno Quando ci devo andare? Penso di poterci già andare però Giusto? Non lo so È la prigione la prossima? Sì Sì allora ce l'ho Non so perché non me l'aveva assegnato Però non me ne sono resa conto Quindi adesso Ci vado Sono arrivata Nel frattempo sono arrivata Ok i gladiatori invece Sono otto Uno Quindi Due Buongiorno Salve a tutti Uh ma che c'è acqua qui? Che siete matti? Ragazzi ma perché non mi spawnano Finché non passo lì? Eh che scatole così Buongiorno Sono arrivata alla prigione Obiettivo Allora Prigioniero Quindi dobbiamo fare sicuramente I prigionieri Base Perché tanto è sempre così Miau Buongiorno Camillina Grazie per essere venuta a salutarci Quindi i prigionieri Saranno qui Io spero che a sto giro Ragazzi responano Senza che ci vado io nei punti Perché è una sbatta Cioè mi devo ricordare A memoria dove stanno Ma siamo matti Non stanno responando Quindi Ok Ok Sembra tutto a posto Venite tutti qui amici No raga Spariscono Ma è così difficilissima Sta missione Cavolo se ricorda Più o meno sono questi Quattro angoli Vedete Però cavolo Ok Ne abbiamo fatti Cinque Me ne mancano Altre Sicuramente mi complica Un pochino La mia situazione Miau Camillina Cosa c'è oggi Che stai miagolando In tutte le registrazioni Che c'è? Allora E quello che devo dire 280 Non vedi che stiamo facendo un video Non penso che Camillina Capisca No certo che lo capiscono Anche perché ogni volta Che finiamo le registrazioni Vengono tutti nello studio Quindi capiscono benissimo Che abbiamo finito di lavorare Cioè di lavorare Di fare i video Perché poi si lavora sempre All'altro quindi Però lo capiscono E come Uno era qua Raga Sta missione È terribile Io spero che possiamo andare via Massimo al 290 Perché Se lo sta fino al 300 Oioi proprio Oioi 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 Gran premio di Silverstone Oioi Oioi Completando la missione Purtroppo Steffa aveva ragione Ovvero? Livello 300 Eh vabbè Io voglio vedere Ah no Nuova missione disponibile Ecco Stavo per dire Voglio vedere a che livello Posso sbloccare La possibilità di fare I boss Ecco appena fatto Tutto chiaro Quindi corro Lo prendo Vediamo se è sponato Altrimenti continuiamo a farci I prigionieri pericolosi Oh Ce l'abbiamo fatta Ok Sei me ne mancano due Let's go Livello 301 1100 metri Di distanza Parca miseria Se lo danno raga E totalmente Dalla parte opposta Cioè Spera con la nave Questo viaggio Se lo fa In sei mesi Eh vabbè Mi prenderò Il tempo che serve Io vorrando Devo dire che almeno Che ti devo dire Allora Perfetto Abbiamo fatto il 227 Mannaggia Non possiamo prendere L'altro boss Però vediamo Se sono responati Allora Vediamo vedere Allora Vediamo il potere Che se no Non possiamo parlare Con le missioni 500 metri 450 No Non è responato Niente di niente 400 350 No Steph Non responano I boss Non responano Eh ma il terzo c'è? No Non c'è nessuno Vedi che non c'è nessuno Eh si Infatti devi fare Un po' Un po' Allora Vediamo Fammi capire Chi sono Chi è che mi deve dare Lo suon Guardiano capo E vedi Vedi che ho fatto Il guardiano capo Prima Perché era lo Schief Scritto così Ragazzi Ve lo sto dicendo Come si scrive Warden Quindi era il guardiano capo Perché Schief È praticamente il capo Ok Vabbè Non importa Non la prendo Anzi no È sponato È sponato In questo momento Aspetta il guardiano Guardiano Sponato subito Prendiamola Questa è veramente Dell'ex buona Aia Dini amico Questi mi fanno anche danno Raga Che mi dai un sacco di soldi Credo perché sono troppo basso di livello io Ok Eh ma Devo andare dall'altro lato Oddio Che roba scomoda Però da questo lato Ce ne sono tre Quindi mi conviene Star qua Seguate Sei più lenti Porca miseria Dai 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 Vieni bravo Non ti fermare Infame Maledetto Schiattando Fatto Sono a livello 230 Bravissimi Bravissimi ragazzi Così si fa Però purtroppo Non è ancora Sponato Il Quello che ho ucciso Per sbaglio Il guardiano capo Che poi dovrebbe Perché in realtà Che poi pensa Se tu sei in un server normale Che se lo uccide qualcun altro Esatto Poi ti agganci Esatto Ti agganci Però comunque ho fatto prima Quello capo Rispetto al guardiano normale Cioè dovrebbe già essere Responato in realtà No no Dei respon rate Diversi Eh si me ne sto rendendo conto Comunque mi faccio un giro Che magari Guardate il danno Che mi fanno Aia Che mi manca l'ultimo E poi andiamo a vedere Almeno se È sponato Il guardiano boss 309 Probabilmente Il 310 Sbrochiamo a seconda missione Che però raga Se vi sto bene Qua ne abbiamo Tre Buona Buona come cosa Venite Venite Con calma Bravi Ma non è che spona Tipo nel tetto Qualcosa del genere Ma non credo No no è lì al centro Spona Dentro l'edificio Non c'è mai stato Lo so Ma anche quello capo Oh Ma che non tornate più Ah ecco l'ho sponato invece È sponato quando mi sono avvicinata Alla zona Quindi forse Conta anche quello Magari sponano Quando c'è un play Che c'è? Mi ha sciolto No no Non ho messo No se ne fosse giusto Ok Perché non avevo messo L'on point qua Che ansia Aspetta che lo rimettiamo Non sta mai Infatti ho detto No adesso sono dell'altra isola E mi devo rifare tutto Il percorso in nave Allora L'ho sottovalutato Perché prima l'ho sciolto subito Ma in realtà fa Un male incredibile Via Aia Non mi deve proprio toccare Ragazzi Se mi toglie con un colpo Mi da Mi leva Metà vita Metà vita Mi leva Dai Ma non si devono incastrare così Sti qua Sono dei deficienti E mi sciottano poi Porca miseria La mia vita ragazzi È diventata mille volte più difficile adesso Ok l'ho fatto volare Giocarcela tutta così Dai Dai ce la gestiamo Non è al 300 È al 315 Davvero? Davvero? Fammi vedere A sto punto guardiamo Militario spia 325 Fatto Fatto E ho visto che è respawnato anche l'altro guardiano Quindi facciamocelo subito Ma voi state male? Facciamo solo subito Il guardiano Perfetto Perfetto Allora Nel frattempo Ci aumentiamo la difesa ragazzi Che tanto Fin che hanno resetto i punti Comunque è utile portarcela In alto Allora Aspettiamo che tornino in vita Allora 3 Facciamo questi 3 E Siamo al 316 Comunque Quasi fanno un sacco di soldi No adesso mi hanno rifatto danno Raga Niente Come l'ho detto È ottimo Però vabbè Non penso di prendere il potere oggi Con mia grande delusione Però ci sono molto vicina Io ho quasi un milione Vabbè a tutto te Comprami il potere Ok Poi gif Gittamelo Va bene Allora Non spona l'altro tipo di boss Non l'ho mai visto Però voglio vedere a che livello Dovrei prenderlo Su on 240 Io sono al 237 Quindi ci sono molto vicina in realtà Io direi Che secondo me ci possiamo fermare No Stai Facciamo un video da 45 minuti Non facciamo i video da 45 minuti Tagliato Quindi noi dobbiamo registrare anche di più Ma dai Non ho preso il potere Ho 440.000 E appunto Te ne mancano 60.000 E appunto Mi faccio veloce Aspetta Faccio l'ultima missione Ho visto come ti fai veloce Faccio l'ultima missione Fai l'ultima missione È troppo divertente sto gioco Infatti poi ogni volta per giocare Devo aspettare di fare i video Perché lo registriamo Altrimenti mi metterei qua Guarda A nerdare tutto il tempo Beh eravamo comunque Abbiamo iniziato Che io ero tipo livello 270 Mi pare Io ero meno del 200 E sono arrivata al 200 Adesso arriverò al 240 Quindi comunque ci siamo portati a casa Un bel po' di livelli Ma sì Una cinquantina di livelli Penso che tra una roba e l'altra Li ho fatti E poi hai fatto anche le nuove zone Quindi hai fatto vedere Due nuove zone oggi Colosseo e Vulcano Quindi ottimo Oltro che Bel posti Eh sì No no è vero No dai è bello Che fai vedere le nuove zone Sì ma sono dei postaci Come tutti i posti No la prigione è bella Prigione è bella Sì mi piace un sacco Ok E abbiamo fatto il 319 Per un totale di 990 mila dollari Poi sbloccheremo il militare spia E poi ci sarà il militare boss Spero lì sopra Spero che almeno un boss lo abbiamo In quest'isola Secondo me sì Però non ne sono sicura Io sto ancora cercando Swan A proposito di boss Ma hai detto in quel punto Non è mai comparso E ho capito E che faccio se non compare Non so Che faccio No raga ho sbagliato tasto Meno male Sto tornando Ok dai ho fatto un'altra missione Nel frattempo Quindi per oggi sono a posto Ho fatto il 241 Ma Ragazzi Swan Non lo vedo Prima o poi ovviamente Comparirà Ma non è questo il momento Evidentemente Sei comparso? Almeno vuoi vedere se compari Non compare Uh fa danno quella lava Non è che devo prendere la missione E poi compare Prendiamo la missione Beh potrebbe Buongiorno Io mi preparo Nel caso in cui mi dovesse Non compare Sei sicuro che qui dentro? Sì Non compare Anche perché Vi ricordo che non c'era E quindi avevo controllato Diciamo Quindi anche Era quel boss di cui ti lamentavi No? Sì Che non compariva 322 Ci fermiamo Per il saggancia Eh sì Non compare Ciao Ciao